Sono ricominciate ieri, domenica 21 marzo, le vaccinazioni con il siero AstraZeneca, inizialmente ritirato a titolo precauzionale e ora tornato a regime anche qui a Pesaro, anche qui al centro vaccinale Monaldi della Celletta, dove oggi, lunedì 22 marzo, c'è la seconda giornata di vaccinazioni, di nuovo soltanto con il vaccino AstraZeneca. Oggi avevo l'appuntamento, non sapevo che c'era l'AstraZeneca, ma tanto ero qui, l'ho fatta, mi fido dai, va bene la stessa. Le procedure organizzative sono andate in maniera sciolta, come sperava? Ho aspettato un pochettino, ma insomma dai, va bene, bisogna accontentarsi, siamo in parecchi. Abbiamo prenotato per il vaccino Pfizer, no? Invece siamo arrivati che c'era AstraZeneca e l'abbiamo fatto, non abbiamo pensato niente. Come è stata l'attesa, la procedura? Tutto bene, siamo arrivati, è arrivato il nostro turno, siamo entrati, abbiamo fatto. Personalmente non ho mai avuto alcun dubbio, sicuramente poi quello che è accaduto ci ha ulteriormente confortati della qualità, della bontà del prodotto, del vaccino, quindi no, io non ho mai avuto nessun dubbio. Prima volta che si fa il vaccino e quindi prima volta in questo centro vaccinale, come si sta svolgendo la procedura? Allora, io se posso dire mi aspettavo una cosa un po' più veloce, così, detto molto semplicemente, però ci sta, ci sta. Sta funzionando tutto, i tempi sono piuttosto lunghi, questo sì, rispetto insomma agli orari che ci indicano, forse ingenuamente ho immaginato di potermela sbrigare nella fascia d'orario indicata, però nessun problema, insomma, si sta qui, si pazienta. Ed ora ci troviamo al Rossini Center della Torraccia e più precisamente nell'area esterna all'ex Risto, ex area di ristorazione che da lunedì 29 marzo diventerà il nuovo punto vaccinale della città di Pesaro. Va infatti in archivio il centro Monaldi della Celletta da giovedì, dopodiché da venerdì inizierà le operazioni di trasloco verso questa struttura di 1200 metri quadrati che è stata cominciata a liberare da sabato dai volontari della protezione civile e dalla Onlus Gulliver. Un nuovo punto vaccinale in cui si conta di raddoppiare le dosi somministrate ai cittadini. Attualmente si viaggia attorno alle 800 dosi giornaliere al centro Monaldi. Qui all'ex Risto si conta di arrivare a circa 1500, come ci spiega anche l'assessore all'operatività Enzo Belloni, si conta di partire con 1000 somministrazioni e poi magari di riuscire ad allargarsi anche ad altri punti vaccinali. Un punto vaccini dove dovrebbero essere garantiti 1500-2000 vaccinazioni giornaliere. Abbiamo anche avuto la disponibilità da parte di signoretti di Xanitalia di una sua azienda a Villa Fastigi di circa 1000 metri quadrati. Quella potrebbe diventare la postazione dove i medici di base possono vaccinare i loro pazienti. Con Asur c'è una collaborazione molto forte, l'abbiamo fatto nel momento dei tamponi e lo continuiamo a fare nel momento dei vaccini. In questo momento le polemiche non servono a nessuno, serve solo far squadra e ottenere un risultato che ci faccia uscire da questa situazione particolarmente critica. Aspettando l'attivazione dell'area ex-Risto e di eventuali nuovi punti vaccinali in città, questa settimana si procede fino al 25 marzo con le somministrazioni al Monaldi, dove domani, martedì 23 marzo, tornerà il vaccino Pfizer, ma solo per le seconde dosi. Per chi deve ricevere la prima inoculazione si dovrebbe continuare a procedere con il solo siero AstraZeneca fino all'arrivo di nuove forniture Pfizer. Intanto l'Asur comunica che chi aveva la prenotazione per il vaccino lo scorso giovedì 18 marzo al Monaldi, la somministrazione è stata riprogrammata a mercoledì 31 marzo nella nuova area dell'ex-Risto.